Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere Così pure i discepoli dei farisei I tuoi invece mangiano e bevono Gesù rispose loro Potete forse far digiunare gli invitati a nozze Quando lo sposo è con loro Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto Allora in quei giorni digiuneranno Diceva loro anche una parabola Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo Per metterlo su un vestito vecchio Altrimenti il nuovo lo strappa E al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri Si spanderà e gli otri andranno perduti Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo Perché dice il vecchio è gradevole Lo stile accusatorio è lo stile di quei credenti che sempre cercano di accusare gli altri Vivono accusando e sempre squalificano gli altri Uno stile io direi di promotori di giustizia mancati Sempre stanno cercando di accusare gli altri Ma non se ne accorgono Che è lo stile del diavolo Nella Bibbia il diavolo lo si chiama il grande accusatore Che sempre sta accusando gli altri Il Signore ti ha offerto il vino nuovo Ma tu non hai cambiato gli altri Non hai cambiato La mondanità che è quello che rovina tanta gente Gente buona Ma entra in questo spirito della vanità Della supervia Di farsi vedere Lo stile cristiano è quello delle beatitudini Mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferenze Amore per la giustizia Capacità di sopportare le persecuzioni Non giudicare altrui Se tu vuoi sapere com'è lo stile cristiano Per non cadere in questo stile accusatorio E lo stile mondano E lo stile egoistico Legge le beatitudini Le beatitudini sono le otri nuovi Sono la strada per arrivare